Io ho giurato per un anno di non dire una parola, quindi fino al 14 aprile è mutuo. Ma perché un anno è una misura del tempo, può essere sei mesi, due anni, 27 anni. Io non so perché nella mia testa ho pensato che un anno fosse il giusto. L'azione è il 4 marzo. Eh no, se no allora è finito. Non possiamo vedere le liste di Forza Italia? No, 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 silenzio, 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 non so niente, non parlo. No, no, davvero. Tantrina? Ciao. Allora, ci siamo in uno? No, 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 tabù, tabù, tabù. No, no, politica niente, è tabù. Questo è lunedì a pranzo ad arco, è arrivata la decisione. Tabù, tabù, tabù. Gerol, ciao. No, no, tabù, non parlo, non parlo rivederci. Elga, contenta della candidatura al Senato? Così, così. No, contenta. Però lo perde così, se ne va a Roma. No, però è contento lui, va bene. Ma sai in quale collegio si candida? No.